Nanni in Mallorca, un'altra sconfitta Non è vera assolutamente La squadra ha giocato benissimo, non abbiamo sbagliato niente Ma dove? Alla Playstation forse? No, no, parlando del torneo che provo a uscire faccio la Playstation No, quella che abbiamo giocato ora abbiamo perso, non sbaglio Abbiamo perso 7-2 7-8-2, non lo so sincero No, no, 7-2 Più demerito vostro o merito degli avversari? No, gli avversari sono forti, però vinci a noi Non lo so, a parte abbiamo preso tipo 5 pali Vabbè che giocate con Piero Lo so, quello è un definitivo Vabbè no, ma siamo tutti che facciamo schifo, però non lo so perché Ma perché? Non ci mettiamo, non facciamo più squadra come inizio per me Non lo so perché, sembra che entriamo in campo molli Ci abbiamo iniziato bene, poi tipo abbiamo lasciato fare tutto all'occhio Quindi si allontana con oggi la speranza play-off Sì, auguri, grazie Se allontana con oggi la speranza play-off Probabilmente a meno di miracoli non ce la dovremmo fare Non ce l'abbiamo fatta Si vede lo spettro dell'AV Ah, perché... Sì, lo spettro della Serie B Vabbè poi ci sei play-out Ma pensi che dopo un'annata così deludente La squadra rimarrà unita a fine campionato? Adesso, vediamo ora Si parla di un Mallorca Revolution Eh, parli tu il Mallorca Revolution Mallorca Pro Revolution Un Piero che si ritira finalmente e fa sotto l'organizzatore Eh, può essere, non può essere Quello purtroppo se lo dovrà accollare qualsiasi squadra Non so se noi o qualcun altro Ma ce lo accolleremo fino a quando avranno 95 anni Farà una sanatoria delle sanatorie Classe 68 Nuovi articoli Articolo 12 La prossima contro Yusley Art Potrebbe essere uno scontro salvezza ormai Si dai uno scontro... Che allegria Che allegria Si abbiamo questa partita Speriamo di tornare alla vittoria Che non vinciamo tipo da un mese Cioè abbiamo vinto con i Gladiators l'ultima Cioè abbiamo vinto con i Gladiators Poi abbiamo perso un poco tutte Forse siete montati un po' alla testa Non lo so, è tipo come se avessi vinto la finale Sono tutte amichevole Giochiamo tra l'allero e l'allero Vabbè comunque Sarà per la prossima Vediamo Il prossimo anno Il prossimo anno Certo Poi Revolution Vabbè ciao Ciao Anni Ciao 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 ragazzi Una bella vittoria oggi Si bella bella Abbiamo vinto Molto felice di questa vittoria Se lo distrutti Frantiscaner era in crisi Però viene dato filo da torcere Anzi era fatto due gol Non ha giocato bene No C'è Micelli il goliatore Diciamo perchè conoscevo l'organizzatore Conoscevo l'organizzatore Conoscevo l'Igna Matti Vabbè Quanto è convenuto Si è stata una partita maschia Però Ma quanto vi è convenuto cambiare questo Di Maio con un Micelli così? Poco Di Maio avrò fatto più Poca e niente Di Maio Vabbè il merito è mio si sa Il merito è capitano Ma ci pensate un pò allo Scudetto Si abbiamo vinto già Solo io ci penso Solo io ci penso Il campionato non lo vince ma lo Scudetto Potremmo Potremmo Perchè è l'ultimo anno di Cascianer Questo torno in Tasculle Quindi dobbiamo dare l'addio in Potrebbe essere Quindi regalate la coppa Madre 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 Che se lo alza E come posizione in classifica Come pensate? Sesti A meno che Fatima non viva E dove pensate di arrivare? Sesti Sesti ci sta bene Sesti vi va bene L'importante è andare in playoff Una partita in più da fare Ma ormai forse è matematico essere in playoff No non si ancora no Contro i... Come si chiamano? Space Jam Anche hanno bisogno di punti Quattro vittore è una sconfitta Bravo Michele Bravo Michele E' un rinquadio Lui Cascione Cascione Un po' d'altro E' il migliore in campo oggi? Fiorello Micheli Fiorello, Micheli Un po' tutti allora lo facciamo Vabbè alla prossima quindi Quanta siete con Space Jam? Un saluto a Dario Rizzo Dario Rizzo? Dov'è? Ah il vostro supporter L'unico L'unico No c'è pure l'altro Oltre ai genitori a Mimmo Mimmo No no qua l'amico di Michele E' il pochino di Michele Ah non l'avete qualcuno dai dai Sì dai dai Oltre ai genitori Oltre ai vari genitori Vabbè ragazzi allora in bocca al lupo E speriamo che si playoff Un saluto a mano Ciao 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 ciao